Oggi parleremo di crisi bancaria, cioè di crisi della fiducia dei cittadini nelle banche. Ovviamente non si può parlare di crisi bancaria senza parlare dello scandalo più noto nella storia d'Italia, lo scandalo della banca romana che partì appunto dalla banca romana negli anni 90, gli ultimi dieci anni dell'Ottocento. Fu uno scandalo travolgente, travolse non solo Bernardo Tanlongo che era il capo di questa banca e che era appena stato nominato senatore, ma travolse anche il mondo politico, Giovanni Giolitti costretto a emigrare per un breve periodo in Germania e lambì addirittura la corona. Poi questo scandalo fu chiarito, risolto, per modo di dire, e nel secondo dopoguerra però ci furono ulteriori scandali come crisi di fiducia nelle banche. più celebre fu quello di Michele Sindona, 1974, che poi qualche anno dopo portò Michele Sindona in carcere dove trovò la morte con un misterioso caffè, una strana morte probabilmente ucciso da qualcuno che non voleva che parlasse. Poi lo scandalo del Banco Ambrosiano, 1977-1981, un caso che travolse oltre al Banco Ambrosiano stesso anche la Milano che si raccoglieva intorno al Banco Ambrosiano. Poi la crisi, la gravissima crisi del Banco di Napoli nel 1994, il Banco di Napoli di Ferdinando Ventriglia. E poi qualcosa che non è legato allo scandalo, ma a una nuova crisi di fiducia nei confronti delle banche sarà la crisi dei subprime, quella successiva al 2007, che si aggraverà con il crollo il 15 settembre del 2008 della Lehman Brothers e la lunghissima crisi che ne seguirà. Di crisi bancarie, cioè di crisi di fiducia dei cittadini nelle banche, parliamo oggi con il vice direttore generale della Banca d'Italia Federico Signorini. Mi spieghi innanzitutto come e perché è cambiato il modo di gestire le crisi bancarie nel corso degli ultimi decenni. Dunque, è cambiato molto. Io credo sia importante capire sia perché è cambiato e sia le conseguenze di questo cambiamento. Per capire perché, secondo me, bisogna partire da un concetto. Le banche sono imprese, come tutte le altre, e al tempo stesso sono diverse da tutte le altre. Sono imprese come tutte le altre e quindi possono fallire. Ci sono regole, vigilanza, ci sono un sacco di istituzioni che servono a ridurre questo rischio, ma questo rischio non potrà mai essere completamente abolito. E quindi bisogna mettersi nella condizione di gestire, quando succede, la crisi di una banca. E qui viene la differenza tra una banca e un'altra impresa. E la differenza ha un nome, si chiama fiducia. La fiducia è una cosa centrale per quanto riguarda l'attività finanziaria in generale, bancaria in particolare. E questo punto viene illustrato qualche volta, io credo sia efficace, facendo il paragone tra una banca e un supermercato. Se fallisce un supermercato, naturalmente è sempre una cosa traumatica, una cosa dolorosa per i dipendenti, per i proprietari, per un sacco di gente. Però per i clienti non sarà poi un dramma così grave, andranno a fare la spesa in un'altra parte. I concorrenti nel supermercato non saranno necessariamente toccati, anzi al limite potranno vedere aumentare la propria clientela. Per una banca è diverso. E lì la questione è esattamente quella della fiducia. Nel momento in cui non solo c'è una crisi, ma c'è il dubbio, il sospetto, magari voci incontrollate che possono fare venire il dubbio che ci possa essere la crisi di una banca, allora nasce la sfiducia. Se nasce la sfiducia, nasce una serie di movimenti che possono sconfinare nel panico, che possono portare, per esempio, a una corsa agli sportelli. E una situazione di questo genere, e qui c'è la grande differenza tra il supermercato e la banca, non è necessariamente limitata al punto dove nasce. Cioè nel momento in cui c'è la possibilità che una banca, c'è il dubbio che una banca possa entrare in crisi, la sfiducia facilmente si estende agli altri. Dottor Signorini, mi permetta di farla tornare bambina e di portarla metaforicamente al cinema. La riporto a vedere un film che avrà sicuramente visto da bambino, Mary Poppins, e c'è una scena che è famosissima, dove il mancato versamento di due penni scatena una crisi di sfiducia nei clienti di proporzioni colossali. Che cosa ci insegna quella scena? Precisamente, si tratta proprio delle cose che dicevamo prima, la necessità di preservare la fiducia e la necessità di preservare la stabilità. Però ripeto, la corsa agli sportelli, la corsa a rientrare in possesso dei propri depositi, non si giustifica in presenza di un sistema di garanzia dei depositi. Quello c'era prima e c'era ora. Da questo punto di vista non è cambiato nulla né leggi europee, né standard internazionali, né tanto meno leggi italiane. Io ho un rimedio per tutto questo, uno dei rimedi, che è l'educazione finanziaria. Noi stessi siamo un momento di questo percorso dell'educazione finanziaria perché è un presidio fondamentale da affiancare all'attività di vigilanza che poi svolgono le autorità nazionali ed europee. D'accordo? No, le do perfettamente ragioni, anzi sa come io dico, io dico che dal punto di vista della tutela dei clienti bancari e degli utenti di servizi finanziari in generale, le regole di tutela e l'educazione finanziaria sono un po' le due ganasce di una tenaglia, sono come le due lame di una forbice. Nessuna delle due funziona bene se non insieme all'altra. Le regole servono, devono prescrivere i comportamenti giusti, le banche devono punire gli eventuali comportamenti scorretti, devono soprattutto obbligare le banche a dare ai loro clienti informazioni complete e corrette. Però se uno non ha gli strumenti giusti per sfruttare queste informazioni, allora lo sfruttamento delle informazioni non è ottimale. E noi sappiamo dalla ricerca, anche a livello internazionale, che tra le persone comuni, escludendo naturalmente quelli che si occupano i competenti, i competenti che si occupano, coloro che hanno proprio una vocazione professionale, la conoscenza dei concetti dell'educazione finanziaria è limitata. E io adesso non parlo di concetti complicati, di contratti particolari, di transazioni sofisticate. No, no, ma quella in generale. Quella generale, quella che ciascuno di noi si trova ad affrontare, tenere un conto corrente, scegliere un mutuo, decidere come investire i propri risparmi, pochi e tanti che siano. Per queste cose non servono conoscenze stratosferiche, servono però alcune conoscenze di base, serve sapere come si calcola un tasso di interesse, per dirle una cosa semplice. Cos'è un tasso di interesse reale e nominale? Serve capire il concetto fondamentale più rendimento uguale più rischio? Insomma, servono una serie di cose che possono sembrare molto di base, però sì, l'evidenza che noi conosciamo dalle indagini anche a livello internazionale non sono sufficientemente diffuse. E per di più, questo vale un po' per tutti i paesi, ma forse in Italia, sulla base delle comparazioni disponibili, vale ancora di più. Che si può fare? Io penso... Innanzitutto fare quello che stiamo facendo qui adesso, dare l'inizio a un'operazione di educazione finanziaria. Assolutamente. E poi, secondo? Secondo, io dico, la soluzione giusta sarebbe imparare la scuola queste cose, perché non sono cose trascendentali, non sono cose così complicate e sono cose che servono molto, tanto quanto almeno altre cose che si imparano a scuola. Nel frattempo ci si può dare da fare. Noi, per esempio, sono molti anni che abbiamo svolto un programma di educazione finanziaria nelle scuole. Grazie, tra l'altro, alla collaborazione volontaria di tanti migliaia, letteralmente, di validi insegnanti. Abbiamo raggiunto già 100.000 ragazzi nei vari tipi di scuola. Abbiamo anche verificato che questi corsi sono efficaci, diciamo, che cambiano un po' la capacità di comprendere alcune cose da parte dei ragazzi. Siamo intervenuti anche sul pubblico adulto, in particolare sugli utenti dei servizi bancari, eccetera. Però non possiamo nasconderci che sono un po' gocce nel mare, che occorrerebbe uno sforzo molto più sistematico, molto più generale. E quindi noi siamo stati sempre, tra coloro che hanno promosso, la costituzione di sedi in cui si mettessero insieme enti governativi, noi stessi naturalmente, altre istituzioni che sono impegnate, diciamo, su questo fronte all'educazione finanziaria, per arrivare, possibilmente, a costruire quello che deve diventare un vero e proprio programma nazionale di educazione finanziaria. Partendo dalle scuole, naturalmente, perché si guarda sempre al futuro, ma estendendosi anche alla popolazione adulta. Io penso sia molto importante. Vi ringrazio davvero moltissimo Federico Signorini per questa partenza, o ripartenza, per questo grande programma di educazione finanziaria. Grazie a te. Grazie a te.